Siamo sulla via di Burtina con Marco Felli, sta per aprire un negozio di streetwear Street Mentality Street Mentality Via di Burtina 116, siamo in allestimento, presto apriremo Ecco Marco, quindi lì giù abbiamo Tivoli Terme, no? Le Terme di Tivoli Sì, a nostra sinistra Tivoli Siamo a Villalba, sulla via di Burtina, di fronte a M+. E Marco sta lavorando duramente notte e giorno, e anche al pomeriggio, è vero Marco? Anche al pomeriggio Tra cui adesso, e per l'apertura di questo grande negozio di abbigliamento streetwear Snowboard, skate, articoli tecnici per tutti i sport da tavola Ecco, mettiamoci più, diciamo, di qua così, ecco, mentre i pittori stanno I nostri muratori, Nicola Stanno lavorando a pieno I muratori pazzi I muratori pazzi di street mentality, ragazzi Street mentality, ma perché questo nome Marco? Questo nome perché specchia la tipologia di abbigliamento che andiamo, diciamo, a esporre Quindi mentalità da strada, diciamo, no? Mentalità da strada Perché lo streetwear, appunto, nasce sulla strada come l'hip hop Sì, come l'hip hop Quindi un pubblico hip hopparo, si può dire, ma non solo, no? Giovanile Rider Alla moda Sì, alla moda Ok, quindi anche musica, faremo degli eventi musicali Eventi musicali, eventi di flop E tu venderai quindi anche prodotti di snowboard, surf, skate, bmx, graffiti Sì, popolette, marker, spray Alla grande Senti, sito ufficiale? Sito ufficiale www.streetmentality.it E email info-streetmentality.it Facebook? Facebook Street mentality E comunque qui ci troviamo a Guidonia A due passi da Roma Sì Tra Roma e Tivoli Tra Roma e Tivoli Tra Roma e Tivoli Vicino, insomma, è una zona che c'è tanta roba qua C'è il Planet, no? C'è il Cinema Planet The Space Le Terme E c'è anche Marco Felli Street mentality Ok, un saluto Ciao ragazzi Oh, in fretta questa apertura Marco Mi raccomando, ciao Un saluto ragazzi Un applauso Ciao Yeah Yeah